Un buongiorno a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Gavirate e questa è la chiesa di San Giovanni Evangelista dove abbiamo un concerto di 6 campane, scusatemi, e adesso sentiremo il concerto solenne appunto per l'angelus solenne di San Giovanni A presto e tanti saluti da Campanaro 32 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti